Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento dedicato a presentare candidati e programmi in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. È nostro ospite in questa occasione il senatore Franco Conte. Ben trovato. Buongiorno e buona giornata. Franco Conte che è candidato capolista nel collegio plurinominale della Camera Veneto 1 che copre il Castelfranco e il comprensorio castellano, 11 comuni della provincia di Treviso, più parte anche della provincia di Venezia, candidato per il movimento Noi con l'Italia. Franco Conte, parliamo di un tema che è una delle priorità indubbiamente per i cittadini travigiani, veneti e italiani in generale. Il lavoro, un lavoro lo sappiamo che manca, qualche passo in avanti è stato fatto ma ancora troppo poco, ancora tanti anche nella nostra zona, nel nostro territorio sono i disoccupati. Certamente, noi stiamo vivendo proprio in questi ultimi mesi una situazione di minore emergenza rispetto a quella che avevamo vissuto negli anni scorsi anche in Veneto dove dobbiamo riconoscere che la situazione economica si era sì aggravata però in maniera meno pesante rispetto ad altre realtà, ad altre regioni. Adesso in questa situazione in cui si sta intravedendo appunto una via di uscita, bisogna approfittare del momento per dare un nuovo impulso alle nostre attività produttive in maniera tale che questo territorio che si è sempre contraddistinto proprio per la capacità lavorativa, per la qualità anche delle maestranze che sono impiegate nelle nostre aziende, nelle nostre attività, possa tornare ad emergere creando un volano generale per l'economia. Ecco, il nostro partito ha nei suoi obiettivi proprio quello di usare questo momento favorevole per dare questo nuovo impulso ma soprattutto anche per dare nuove e ulteriori garanzie a quello strato di lavoratori che purtroppo si trovano con contratti di tipo precario, con contratti di lavoro a tempo determinato e quindi che giustamente aspirano ad avere un'occupazione definitiva. Ecco, credo che sia questo il momento in cui bisogna puntare a qualificare il lavoro proprio come forma di contratto. Bisogna riconoscere che durante i cinque anni della legislatura che si sta concludendo sono state fatte alcune cose positive, per esempio la legge sulla riforma del lavoro ha alcuni aspetti che sicuramente sono positivi, però non è sufficiente. Bisogna andare oltre dando appunto nuove garanzie in modo particolare ai giovani che fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro. Escono dalla scuola e da alcuni dati che abbiamo impiegano magari anche cinque anni prima di trovare un'occupazione definitiva. Dobbiamo fare in maniera che questi cinque anni siano poche settimane, qualche mese al massimo, ma soprattutto che ci sia la possibilità di entrare in maniera definitiva nel mercato dell'occupazione. Senatore Conte, il lavoro, l'occupazione, lo dicono le statistiche, è in leggera ripresa, però quello che lamentano ad esempio i sindacati è che in realtà questi nuovi posti di lavoro sono di una qualità inferiore rispetto ai precedenti. Bisogna intervenire anche su questo aspetto e cosa si può fare? Ecco, si pone un problema. Ho detto un attimo fa che ci sono giovani che escono dal mondo della scuola e che fanno molta fatica, devono impiegare troppo tempo per potersi inserire. Ho visto alcune statistiche che portano a dire che un terzo circa dei nostri giovani non riesce a inserirsi subito nel mondo del lavoro. È un numero elevato, del 33-35%, è un numero troppo elevato. È anche vero, però, questo è un altro dato che ci deve far riflettere, che nel nostro territorio un'azienda su cinque non riesce a trovare le figure professionali di cui ha bisogno. Allora bisogna agire in maniera tale che si incrocino il mercato della richiesta con quello dell'offerta. Da questo aspetto bisogna lavorare anche dal punto di vista dell'orientamento scolastico, perché se le disponibilità che ci sono nel nostro territorio sono per alcune figure professionali, dobbiamo fare in maniera che la scuola veneta, la scuola italiana, prepari quelle figure professionali. Altrimenti ci troviamo con giovani, diplomati e laureati italiani che sono costretti a uscire, andare all'estero a lavorare, ma nello stesso tempo noi importiamo degli operai per il nostro territorio che provengono da altri stati degli stranieri. e quindi bisogna fare in maniera proprio di intercettare questa offerta di lavoro e cercare di finalizzare la preparazione scolastica, la formazione professionale a quelle che sono le possibilità occupazionali. Queste allora le proposte, alcune delle proposte del partito Noi con l'Italia in tema di lavoro. Ringraziamo per avercele presentate, per essere stato nostro ospite Franco Conte. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Durante gli anni precedenti noi abbiamo evitato un referendum che avrebbe portato all'eliminazione dei voucher e i voucher sono stati eliminati con una legge. Noi siamo favorevoli alla reintroduzione dei voucher perché i voucher danno la possibilità di trovare dei lavoratori per alcune categorie, per alcuni settori che hanno dei lavori strettamente stagionali. Penso all'agricoltura. Nel caso dell'agricoltura noi abbiamo bisogno, abbiamo le nostre aziende che hanno bisogno di lavoratori stagionali. Ma l'agricoltura non è solo lavorazione e coltivazione e anche lavorazione dei prodotti e quindi diventa un'attività di tipo industriale. In questi settori, ne ho citato uno ma ce ne sono anche altri, c'è bisogno di manodopera in maniera temporanea. Oppure pensiamo al settore della ristorazione, al settore del turismo. Molto spesso c'è la richiesta per il fine settimana. I nostri agriturismi sono aperti per tre giorni alla settimana. Molti ristoranti, molte trattorie lavorano per tre, quattro giorni alla settimana. Quindi questi hanno bisogno di forme di lavoro che siano maggiormente flessibili rispetto a quello che è il contratto. Non è una contraddizione con quello che dicevo prima. Sono due tipologie di lavoro. Entrambe devono essere rese opportune, possibili per le nostre aziende, perché effettivamente è di questo che le aziende stesse hanno bisogno. Grazie per questa ulteriore precisazione anche sul tema dei voucher, certamente molto sentito anche proprio dalle nostre imprese. Del resto, la precedente versione dei voucher era nata proprio nel nostro territorio, le prime sperimentazioni legate agli addetti occasionali della vendemmia. Grazie a Franco Conte, candidato con l'Italia nel collegio plurinominale della Camera delle province di Treviso e Venezia della Castellana e parte delle province di Venezia. Grazie ancora, grazie a tutti voi soprattutto per averci seguito. Vi rinnovo l'invito ad uno dei prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto.